Per diversi motivi, perché per noi lo spazio è assolutamente fondamentale e perché Matera è fondamentale per noi, quindi c'è una doppia opportunità. A Matera abbiamo i GEOS, la nostra società che si occupa di geosservazione e poi nello spazio noi siamo degli attori, l'Italia e Leonardo sono degli attori importanti. A Matera è una città che ha una storia lunghissima, un grandissimo rilancio, capitale europea della cultura, è una città con moltissimi simboli. Noi qua a Matera siamo ben radicati, fa parte delle comunità con le quali lavoriamo e quindi siamo felici di essere qua oggi. Noi abbiamo moltissimi progetti, sia diretti con la Space Alliance, che noi abbiamo con TALES, quindi da Cosmo Skymed, da Galileo, SICRA, insomma delle sigle che sono un po' tecniche ma che per noi sono molto importanti, al fatto che noi produciamo con le nostre competenze, ad esempio una cosa che si chiama Star Trekker, che è un sistema che consente alle sonde che viaggiano nello spazio, ai satelliti, di avere sempre l'esatto posizionamento. Quindi abbiamo molte competenze che ci legano alle iniziative spaziali.